Viaggiare ovunque, toccare ogni luogo in cui possiamo posare i piedi e lo sguardo è una cosa bellissima. Ci sono diversi tipi di viaggio, certamente. C'è chi viaggia per passare il tempo, chi per rilassarsi, chi per puro divertimento, chi viaggia perché vuole conoscere il mondo, per curiosità, per osservare, infiniti tipi di viaggio, di destinazione e di viaggiatori. Quello per conoscere è un viaggio davvero bello, perché non ci permette solo di andare a divertirci dalla parte opposta del mondo, ma ci arricchisce. Entriamo in contatto con culture diverse, storie diverse, visioni del mondo e della vita differente, mondi diversi, è questo il bello. Tuttavia, con la sempre più ampia possibilità per sempre più persone di viaggiare, si è creata una nuova psicosi, il viaggiatore feticista, il quale dirà frasi come «Oh, che delusione, queste antenne paraboliche nel quartiere delle geisha!» «Le geisha, le loro apprendiste, tutti coloro che vivono e lavorano presso e per la casa, tutte queste persone sono reali, come noi e voi, perché non dovrebbero avere un'antenna parabolica?» Entriamo subito nel vivo del discorso. Il Giappone, ma come anche tutto il mondo, non è né un museo né un parco a tema. Prendiamo ad esempio l'Italia. L'Italia è un paese dalla storia antichissima, con una cultura spaventosa ed incredibile. Ci sono città che hanno messo le loro prime fondamenta in tempi così antichi da rendere perfino complesso immaginare. E da allora sono giunte fino ad oggi. Passeggiando per Roma ci si trova davanti al Colosseo ed è una vista così incredibile da impedire una descrizione. Trovare parole anche solo vagamente adatte è una sfida per i più grandi dei poeti. Ma attorno al Colosseo ci sono strade, passano le automobili, i bus, ci sono inchioschetti di souvenir e via dicendo «è normale!» Cosa dovresti fare, tu romano che vivi vicino al Colosseo? Dovresti forse girare solo in toga e sandali? Usare la biga come mezzo di trasporto e la sera invece di guardare la tv proibita perché rovina il paesaggio ed è un peccato andare al Colosseo ad assistere alle battaglie tra i gladiatori? Immagina che un giorno ti arrivino sotto a casa dei turisti, mettiamo che siano giapponesi, e ti dicono «guarda io voglio vedere l'Italia tradizionale, levi cortesemente queste automobili, gli apparecchi moderni, le stufe, i ventilatori, tutto per creare l'Italia di Giulio Cesare» e al tuo ovvio di nego ti sentissi dire «che spreco, che peccato, non è l'Italia che mi aspettavo, avete perso le vostre tradizioni!» Tu, persona comune come noi del resto, dovresti privarti di tutti i comfort della vita moderna per mantenere uno scenario antico per soddisfare il turista. Direi che avete già capito dove vogliamo andare a parare. Il viaggiatore che va nel cuore dell'Africa cerca il villaggio sperduto e una volta arrivato si lamenta perché non trova i cannibali, intenti a divorare i resti ancora freschi dei propri nemici nemitrofi. Stessa cosa si fa in Giappone. Si arriva e si cerca la geisha, ma la si vuole senza cellulare, che vive in una casa dalle pareti di legno, in un quartiere antico dove non si usa l'elettricità ma si va avanti a lanterna e fuoco. E il giapponese, come l'africano e come voi, italiani, che vivete in una città più antica della storia stessa, siete consapevoli di averlo deluso. Però questo viaggiatore in Giappone mica ci viene attraversando la valle della seta a bordo di un cammello, ci viene in aereo. Il nostro intrepido mica si costruisce una barca di bambù e attraversa il mare all'avventura. Non dorme nella pala fitta, sottoponendosi al caldo agli insetti e ai pericoli del freddo o delle intemperie. No, vuole l'hotel comodo, il bagno in camera, l'aria condizionata e i pullman privati che lo portino a destinazione. Siamo nel 2019. Anche in Giappone, anche le geisha lo sono. Viaggiare e crescere, a prescindere da dove si vada, come e perché. Guardiamo avanti, studiando il passato, vivendo il presente e preparandoci al futuro. Lasciamoci insegnare sempre qualcosa da chiunque, in Giappone come nel resto del mondo.